ci sono moltissimi aspetti della vita in un collegio religioso in collegio cattolico che si prestano appunto ad una analisi per così dire semiologica oggi però vorrei specificamente focalizzare l'attenzione e inquadrare attraverso la lente di quella particolare branca della paralinguistica che si chiama prossemica uno degli aspetti uno dei fenomeni appunto della vita in un collegio e in particolare il ritardo allora anzitutto da noi il ritardatario non poteva avere immediato accesso alle aule seguite la lezione della prima ora ma doveva fermarsi davanti all'ufficio del vicepreside l'ufficio del vicepreside si apriva su un pianerottolo di fronte c'erano una serie di bagni e appunto questa porta che era comunque che veniva trovata dal ritardatario comunque irrimediabilmente chiusa e questo già diciamo fa è un primo aspetto della divisione che veniva di fronte alla quale veniva a trovarsi il ritardatario lui in errore sul pianerottolo esposto eventualmente all'udibrio o quantomeno agli sguardi di disapprovazione di chiunque si trovasse a passare là e dietro dietro la porta appunto ben schermata l'autorità alla quale bisognava rivolgersi per impetrare il perdono per così dire per questa mancanza il ritardatario arrivato dinanzi all'ufficio del vicepreside bussava e doveva naturalmente prima di accedere attendere risposta questa risposta non avvenire non non era mai immediata si vedeva perché diciamo la porta della vicepresidenza era una porta a vetri smerigliati si vedeva perfettamente che dietro il vicepreside era presente seduto la sua scrivania sfogliare qualcosa a far qualcosa eccetera ma la risposta è come ripeto non era mai immediata e questo probabilmente era assolutamente studiato per aumentare per così dire la suspense la tensione era già una prepunizione per il ritardo quando poi finalmente il vicepreside con dicendo avanti oppure addirittura a volte suonando un campanellino appena percettibile quei campanellini da tavolo che a volte si trovano ancora negli alberghi consentiva l'accesso al ritardatario chiedeva spiegazioni che quasi quasi sempre lo si vedeva dal sorrisetto sardonico chiedeva spiegazioni a cui lui non credeva e finiva sempre per affibbiare una punizione un penso quasi sempre questa punizione erano dei versi di dante da studiare a memoria nel resto dell'ora e quindi prima di essere introdotto poi in aula a seguire la lezione della seconda ora questo è tra l'altro estremamente interessante proprio anche dal punto di vista psicologico eccetera della della psicologia appunto dei cosiddetti allora dicevamo come ho più volte sottolineato con un linguaggio leggermente carcerario i superiori che diciamo molto spesso ma non solo in occasione dei ritardi affidavano affibbiavano anzi come punizione imparare a memoria dei versi di dante quindi quello che loro consideravano e che si sgolavano perché anche noi considerassimo quanto di più elevato di più sublime che era appunto la poesia del sommo poeta veniva in questo modo ad essere depauperata ad essere parificata a una punizione becera quale poteva essere che ne so i piegamenti imposti in caserma da da un sergente maggiore frustrato ecco questo diciamo anche questo sarebbe un aspetto da da approfondire però ecco appunto la le distanze veniva ecco tra l'altro in questo caso quando torniamo anche alla prossemica ma in questo questo frangente dal punto di vista psicologico in quel il vicepreside che a volte insomma si mostrava abbastanza vicino agli alunni ma di fronte al ritardatario usava il lei proprio per creare una distanza ancora maggiore tra lui autorità e il cosiddetto reo ecco questo è un punto è uno degli aspetti che mi sono rimasti impressi poi magari in seguito cercheremo anche di analizzarne altri